Lui, Jacopo di nome, mosca di cognome, 30 anni, di professione ciclista elite in forza alla Lidl Trek. Lei, nemmeno è da presentare, ma se preferite è Elisa Longoborghini, 31 anni, di professione ciclista elite in forza alla Lidl Trek. Dicono che chi si somiglia si piglia e si sposa pure. Sì, perché ieri, dove, se non al santuario della Madonna del Boden di Ornavasso, Don Roberto Salsa ha unito in matrimonio Elisa e Jacopo, Jacopo ed Elisa, che si sono detti quel fatidico sì che vale una vita. Lo hanno fatto davanti a un grande numero di invitati, parenti e molti personaggi del mondo del ciclismo, come Matteo Moschetti, testimone per Mosca, e Odrei Cordon Rago per Elisa. E poi Elisa Balsamo, Amanda Sprat, Gaia Realini, Elia Viviani, la moglie Elena Cecchini, Tatiana Guderzo, Dario Cataldo, Fabio Fellini, Ilaria Sanguinetti, Eduarteus, Julien Bernard, Francesca Barale, Umberto Marengo, Tony Gallopena, il Ct della Nazionale Femminile Paolo Sangalli e lo storico allenatore Paolo Slongo, il fedelissimo responsabile della comunicazione Paolo Barbieri. Peraltro, subito dopo la cerimonia, il buon Jacopo ha dovuto assolvere i primi doveri coniugali, pedalando su una bicicletta, ovviamente track, che trascinava un seggiolino, sul quale si era accomodata la neomoglie molto divertita e dovendo seguire una sorta di corsa a tappe tutta tra i locali ornavassesi. Ora è tempo di riprendere la preparazione per i due sposini, per la prossima stagione che sarà molto importante, non prima del viaggio di nozze, nei Caraibi, tra Martinica e le spiagge delle Antille francesi. A Elisa, a Jacopo, i migliori auguri di buona vita da tutti noi di VCO Azzurra TV.